Ok, io sono pronta. Ci siete? Tre parole per descrivere cosa provo a condurre la talpa entusiasmo, mistero e adrenalina Ho un rituale scaramantico prima della puntata. Siete pronti? È la mia talpina, porta fortuna. La carezzo sempre prima di ogni puntata. Scrivetemi nei commenti un nome che possiamo darle. Se fossi la talpa utilizzerei come strategia quella di osservare tanto, stare molto in silenzio e agire nel buio. Non va bene questa strategia? La cambio? Secondo me funziona. Qual è la mia paura? Io ho due fobie, l'acrofobia e la chenofobia, che sarebbero la paura dell'altezza e del vuoto. Sono andata a studiarmele, eh. Se mai mi dovessero chiedere di lanciarmi con un paracadute, questo non succederà mai. Ma chissà se succederà ai nostri concorrenti. La cosa più spericolata che ho fatto nella mia vita è stata senza dubbio preparare il mio matrimonio, che è stato un puro freestyle, però ce n'è un'altra ancora più spericolata e la sto per fare adesso. Condurre la talpa. Mi raccomando, state attenti perché la talpa in realtà ci vede benissimo. Grazie.